Ormai è conosciuto come la festa dei nonni per dare quel senso di familiarità e protezione che spesso è indispensabile per prendersi cura di qualcuno. La quinta edizione di Nonno Ascoltami invita tutti gli over 60 a sottoporsi gratuitamente alle due giornate dedicate al check-up auditivo che l'anno scorso ha totalizzato oltre 2000 screening. Tantissime adesioni che spesso hanno palesato l'esistenza di un problema sottovalutato. Quello che ci spinge a tornare in piazza, quello che ci spinge a continuare dopo 5 anni è il fatto che di quelle 2000 persone che abbiamo scrinato lo scorso anno, in effetti molto più della metà avevano un problema di udito. Ma il dato veramente inquietante è che di queste oltre 600 non aveva mai fatto un controllo dell'udito. Domenica 28 settembre e la successiva il 5 ottobre ben 12 piazze tra Albano Laziale, Bari, Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Lanciano, Termoli, Vasto, Penne e Matera ospiteranno i gazebo con i medici a disposizione della cittadinanza. È una vera e propria festa, l'abbiamo pensato così, è una festa della famiglia. Abbiamo pensato alla famiglia riunita e identificata nel nonno proprio per portare gli ospedali in piazza e creare questo momento di festa per i nipoti e per i nonni, e questo momento di accertamento sanitario affinché la salute della famiglia intera passi proprio per la salute del nonno.